Sono Girola Mostrano, coordino la Commissione Lavori Pubblici all'interno dell'Ordine, così che trattiamo all'interno di questa Commissione. Abbiamo trattato quest'anno, c'è la novità grossa che è quella del nuovo Codice degli Appalti e quindi ci siamo soffermati su vari punti all'interno di questo Codice, sui punti controversi, sui punti novità, sulle progettazioni che non sono più di tre tipi ma sono due a livello di progettazione e quant'altro. E questo è stato uno degli argomenti che si è trattato in modo approfondito all'interno della Commissione. Altre argomenti che sono stati trattati sono quello dell'eco-compenso, ecco-compenso che è una novità ottima per gli ingegneri, per i professionisti in generale, non soltanto per gli ingegneri, che però ancora non ha una totale attuazione all'interno della pubblica amministrazione. Comincia ad essere accettata, cominciamo a vedere i bandi che escono dove viene accettato questo principio, altri casi in cui non viene accettato e su questo ci stiamo soffermando, stiamo cercando di andare avanti. Altra questione è quella del preziario regionale, visto che ogni anno viene sistemato, rinnovato, facendo parte anche della Commissione regionale, proprio lavori pubblici, abbiamo fatto una serie di osservazioni, perché arrivino tramite il FOIV in regione, perché si possono andare ad eliminare alcune piccole cose che ci sono all'interno che non permettono di lavorare in modo preciso.